calignaia 4 agosto 2019 splendida giornata di mare e di sole mare calmo acqua calda c'era una marea di gente era piana zibilla la spiaggia e da altre parti la domenia se ora uno va a venire al mare qui bisogna che sia mattutino altrimenti non trova nemmeno uno spazio su uno scoglio per quelli che l'avranno notato da sponda a sponda della baia sono circa 50 metri se fate 10 vasche sono 500 metri se ne fate 20 sono un chilometro di nuoto un saluto ciao